Una giornata storica qui a Partinico, nel cuore della Sicilia, nel cuore della provincia di Palermo, una realtà di eccellenza grazie all'impegno, alla dedizione di un professionista, ma lasciatemi dire personalmente, dell'amico di sempre, Enzo Provenzano che è riuscito ancora una volta con l'impegno, con la dedizione assoluta verso il mondo della ricerca, verso il mondo della scienza, verso il mondo della medicina, a creare un'eccellenza assoluta, dove ancora una volta la vita va presa per la vita, dando la possibilità tra l'altro ad utenti che verranno veramente da tutto il paese di venirsi a curare qui a Partinico. Un'eccellenza per la cura del diabete, per le cure dell'obesità, che tra l'altro contrariamente a quanto si possa pensare, non è una clinica per soli soggetti che possono permettersi di pagare somme ingenti, ma è una clinica che si mette nel mercato e lo fa integrando il pubblico con il privato dando quindi la possibilità di cure a costi assolutamente accessibili. Un'opportunità in termine di buone pratiche che verrà arrivare utenti, pazienti, certamente da tutto il paese Italia, da tutta l'Europa, per venirsi a curare qui a Partinico che diventa davvero centro d'eccellenza.